buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andremo a vedere insieme un progetto creato da un ragazzo visionario che con la sua blog chain e il suo team cerca di minare la stabilità indovinato un po di etirium ormai è stata presa di mira da tantissime innovative block chain sto parlando di solana del token sol andiamo a studiare insieme questo progetto dopo la sigla siamo sulla pagina di solana.com prima di cominciare in alto a destra sul mondo potete mettere la lingua italiana quello consiglio già che c'è meglio sfruttarlo solana che cos'è è una block chain indipendente e vanta di essere la block chain più veloce sicura resistente e dalle fee più basse la block chain di solana è capace di elaborare un blocco ogni 573 millisecondi la sua infrastruttura permette di creare applicazioni decentralizzate e smart contract e adatta a pagamenti ea micro pagamenti inoltre funziona anche da cross chain quindi è interoperabile con diverse block chain e la sua rete di validatori attualmente conta 690 validatori utilizzando una nuova modalità di risoluzione dei blocchi andiamo un attimo a vedere chi è il fondatore di solana a natoli jacovenko residente negli stati uniti vanta un curriculum veramente importante è stato ingegnere software per dropbox ingegnere software per meso spher senior staff engineer manager per qualcomm e oggi ovviamente il founder e il seo di solana ma jacovenko non è l'unico ad avere un background importante anche tutto il suo team vanta veramente un curriculum importante nel tra 2017 e 2018 grazie a un incubatore di start up hanno raccolto più di 25 milioni di dollari per portare avanti il progetto il suo innovativo algoritmo di consenso viene definito proof of history ovvero l'algoritmo per di consenso che serve per sincronizzare il tempo sulla blog chain questo tipo di consenso è stato proprio sviluppato dal team di solana per eliminare definitivamente i problemi legati alla veridicità e il time stamp di un network distribuito cercherò un attimo di spiegare come funziona la propria visori sperando di essere abbastanza chiaro allora praticamente la prof history è l'argomento l'algoritmo blog chain per sincronizzare il tempo invece di utilizzare il classico concetto di time stamp si può dimostrare che un messaggio o un evento è avvenuto in un certo tempo dopo un evento ma prima di un altro supponiamo di andare in dal giornalaio prendere un una rivista che può essere ad esempio il secolo e fare la foto alla copertina del secolo praticamente quando noi scattiamo la foto al secolo a questo giornale cosa dimostriamo andiamo a dimostrare quindi a creare questa foto e a dimostrare che è stata scattata ovviamente dopo la pubblicazione del giornale con il prof history è possibile creare un record che dimostra che un certo evento si è verificato in un momento specifico prima o dopo altri venti il tutto senza usare un time stamp o sistemi di sincronizzazione di terze parti durante l'implementazione sulla blog chain di solana viene utilizzata una funzione che utilizza un sistema di ashing sequenziale resistente al pre immagini quindi un'immagine degli asce già pronte per fare ciò l'output dell'operazione diventa input nell'operazione successiva periodicamente vengono poi registrati il conteggio lo stato dell'output corrente solana ad oggi vanta la possibilità di creare e validare 50.000 transazioni al secondo grazie ai suoi 690 validatori sparsi in tutto il mondo solana riesce a garantire una stabilità una sicurezza e una infrastruttura completamente decentralizzata chiunque inoltre può essere un validatore di solana senza requisiti minimi di staking come ho detto all'inizio del video le fee di solana sono praticamente non dico inesistenti ma veramente basse se contiamo che circa ogni un milione di transazioni sulla blog chain di solana va a costare circa 10 dollari in oltre molti ecosistemi su de fai si stanno appoggiando a questa blog chain ad esempio per riel farming dalla defa i dai videogame ai progetti su nft a metodi di pagamento molte applicazioni decentralizzate stanno veramente cambiando infrastruttura e spostandosi sulla blog chain di solana come potete vedere sono davvero tantissime queste sono solo una parte solana è un'infrastruttura completamente funzionante anche se ancora in fase beta questo vuol dire che il team di sviluppo porterà ancora dei miglioramenti nel corso dell'anno nel corso dei mesi a venire andiamo un attimo a vedere come market cap attualmente solana è posizionata per capitalizzazione al rank 21 come vedete una coin a tutti gli effetti ad oggi ha un valore di 23 euro e 48 centesimi con una sceltazione in positivo di 6,70 per cento come vedete ha avuto un incremento elevatissimo una forte spinta dai sostenitori come la maggior parte delle cripto valute dei progetti validi in questo periodo andiamo a vedere la supply un dato che ripeto vado sempre a controllare attualmente in circolazione ci sono 268 milioni di sol per un rifornimento totale che sarà di 492 milioni di sol o poco più è acquistabile e scambiabile su binance uobi global ok ex ftx hitbc il prezzo più basso di sempre il 11 maggio 2020 0,42 centesimi il prezzo più alto 8 aprile 2021 quindi poche ore fa 23 euro e 49 pensate quando l'incremento pazzesco ha avuto questa cripto valuta nel giro di un anno ha fatto praticamente il 12 mila 582 per cento incredibile diamo un attimo uno sguardo alla community vanta 72 mila 939 membri su telegram 17 mila 900 su discord 138 mila follower qua sotto abbiamo gli articoli su medium github gli scritti su youtube e altri dati che fanno capire che la community è veramente variegata e molto attiva come ho detto solana ha la possibilità di far creare da utenti esterni quindi da sviluppatori applicazioni decentralizzate al suo interno vanta anche un servito che viene chiamato grant che permette a questi sviluppatori di richiedere un finanziamento da parte di solana per creare le applicazioni decentralizzate svilupparle proprio sulla loro blog c'è una sorta di incubatore siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro video del consueto appuntamento questo non vuole essere assolutamente un consiglio finanziario ho parlato di solana a grandi linee vi invito a guardare il white paper da approfondire la storia del team del progetto stesso prima di prendere qualsiasi decisione di acquisto del tocco in sol se il video vi è piaciuto vi invito a commentare qui sotto con i vostri dubbi o domande inoltre vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per supportare il mio lavoro e doni via la nostra community telegram ci rivediamo domani con il consueto appuntamento ciao a tutti